Io penso che l'attività svolta in tutti questi anni dalla DIA è un'attività assolutamente importante per il rilancio del paese e io penso anche che le donne e gli uomini della DIA devono essere orgogliosi della struttura di cui fanno parte perché davvero loro contribuiranno a che il nostro paese sia sempre più libero dalle mafie e quindi c'è da ringraziare la DIA per tutto quello che ha fatto in questi anni.